Ciao a tutti ragazzi bentornati in una nuova puntata di Dragon Book Xenoverse oggi continueremo le missioni parallele dove volevo dire che comunque il video precedente siamo riusciti a sbloccare la missione finalmente della terra in pericolo siamo riusciti a batterli completamente tutti anche se non ci ha sbloccato niente e abbiamo lo scontro contro Cell perfetto ragazzi e questo qui non mi ricordo proprio come sbloccarla completamente vabbè in caso dopo noi continueremo le nostre missioni parallele e missioni della storia e man mano cercheremo di sbloccare tutto allora ovviamente per lo scontro mettiamo proprio i nostri personaggi normali che è proprio lo scontro effettivo di Cell quindi non mi sembra il caso di sbagliare la composizione del nostro team e vediamo come va a finire questa battaglia dovrebbe essere abbastanza semplice teoricamente ragazzi non credo che sia tanto difficile buttare giù Cell potevo anche farcela da solo volendo però comunque ragazzi è sempre meglio non rischiare comunque non sembra ma è fortino Cell se ti prende forte attica massima potenza vabbè siamo un po' lontani però comunque ragazzi l'abbiamo praticamente già buttato giù mi sa che avrà qualche sorpresina da darci perché comunque mi sembra strano che vada giù così tanto faccio il mio altro mi sa avrà qualche sorpresina ragazzi ok si è rialzato e mi sa proprio ragazzi che ha qualche sorpresina da darci a massima potenza sapevo che non sarebbe reso tanto facilmente vabbè però comunque anche a massima potenza non ci dà troppo filo da torcere facciamo di un bel addio vacanze eccolo lì che lo sistemiamo per bene ragazzi dove vai? dove vai? oddio sapevo che non si sarebbe arreso facilmente che non si sarebbe arreso facilmente però adesso noi lo facciamo fuori la svelta ma questo è fatto male però ok dai basta tocchiamolo giù facciamola finita oddio vacanze ecco l'ho ricandato io l'abbiamo sbloccata ragazzi adesso è diventato veramente pericoloso ragazzi adesso è diventato veramente pericoloso riusciamo a buttarlo giù ma se continuiamo a parare sono stronzo ma vai mamma mia fa anche male adesso giù così diamo l'energia a tutti perché ho visto comunque ragazzi che è molto più resistente adesso cammino addio vacanze eh no non è verso niente è diventato molto più forte ragazzi adesso oh che l'abbiamo colpito mi attacco mi attacco beam bang vediamo niente non lo scalfisce niente cazzo oh che l'abbiamo colpito adesso mi va su una di vacanze grafica massima potenza eh però si parla di continuo ragazzi è tosto stavolta è veramente tosto ok che finito ok ragazzi conclusione suprema siamo saliti anche al 41 ragazzi allora sello ovviamente non mi ha ancora dato missioni ah ok mi da i frammenti mettiamo i nostri punticini andiamo a fare l'ultima eh mi sei no ho sbagliato ancora l'ultima eh mi sei parallela mi sei una dobbiamo andare a cercarle mi sa le missioni allora incominciamo gli attacchi base li posso lasciare così per ora mi sa che aumento di tre i super colpi mi sa che qui le abbiamo finite le missioni parallele no c'è la coppia peggiore aia 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 ragazzi questa mi sa veramente che è molto difficile proviamola ma mi sa proprio ragazzi che questa è difficilissima prendiamo sempre il nostro poi prendiamo mira e towa già che ci siamo vediamo come è allora con ragazzo però prima facciamo fuori junior ragazzi ma stiamo diventando veramente forti no no peccato e dai stronzo non poteva pararti ok peccato l'ultimo appalasso stronzo attacco bing bang ah l'hai deviato volte faccio un altro mamma mia un altro scarico ok raffica mi sa che se l'è prata dov'è cavolo vai vieni qua ok nessuno muore basta vado a prendere go one è resistente go ragazzi ok ok mettiamolo giù subito che go one ok 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 ecco lì go c'è andato dov'è? qua desert zona desertica dove andiamo andare ragazzi che è qua in fondo è che purtroppo ragazzi abbiamo un po' di avversari che sono davvero forti che è qua che mi aspettavo merda sono riuscito a scappare il tempo ragazzi se quella mossa mi avrebbe beccato Se tu avessi beccato non sarei vivo. Adesso Vegeta che ve la rompere. La tua energia è bassa. La tua morte è morta. Merda! Mi ha beccato in pieno. Sì, ma ste palle! Sì, ma... ...diamolo? Sì, ma... ...diamolo. E' una volta... ...diamolo, non lo so? ...diamolo! 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 Mamma ragazzi! ...diamolo! Non ti salva. E' una volta... ...diamolo, e' una volta oramai! E allora aso mat 경찰 semi? Allora, almeno uno ci cani toglierlo, perché sennò Eh sì, bene, in pieno mi hanno beccato Tutti e due adosso io Mamma mia, quanto la odio quella fottuta mossa Oh, Trunks crepa Oh, Trunks crepare 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 Mi sa che non ce la faccio con il resto, eh Solo una capsula Andiamo ancora a sconfiggere Questo chi è? Un pattugliatore? Eh sì Ah, Sono una carabella Oh, Trunks crepare Materiale Oggetto chiave ragazzi, abbiamo una sfera Allora, guardiamo dove dobbiamo andare adesso Che non ho Ok, Qua sopra Vediamo Cerchiamo di far fuori Gli altri Ovviamente Uno è go, Cazzo Eh sì, Certo Vabbè Allora Allora Cell Sei mio E mollami però Sì Sì Tutti dosso io C'è Goku Da quando è che ti stai mettendo con Cell Per sconfiggere i tuoi amici Vabbè Io per forza prendermi una capsula Ragazzi E va bene Vai lì Vabbè Era meglio se facevo L'altra, Eh Però Vabbè Un'andata Un'andata Adesso Mamma mia Ragazzi Ecco Adesso sono da solo Perfetto Sono da solo E senza Capsule Ma Va buono Ovviamente Dai, cazzo, che sei quasi morto Oh, là, ragazzi Superata, vabbè, non l'abbiamo sbloccata Ma meglio così Eccola qua, la sfera del drago a sei stelle Perfetto, ragazzi E così abbiamo ricevuto anche la sfera del drago a sei stelle Allora Se abbiamo ancora un po' di tempo No, non abbiamo più tempo, ragazzi Devo interrompere qui il video E vabbè, dai, ragazzi Ci sentiamo direttamente alla prossima puntata Tanto Tanto sono sempre qui io Allora Se vi è piaciuto il video lasciate tanti like Commentate, iscrivetevi al canale Condividete E noi ci vediamo alla prossima puntata Ciao ciao